Buongiorno a tutti, buon venerdì 4 ottobre, già giorno di vigilia, domani si torna in campo contro il Torino a San Siro, partita difficilissima e in cui bisogna far fruttare il turnover e l'abilità che ha avuto Inzaghi a ruotare, a far riposare, a far tirare il fiato ad alcuni importanti giocatori riuscendo comunque a vincere, convincere, facendo 4 gol, ritrovando gli attaccanti di riserva e riuscendo a non prendere gol ecco, questo secondo me è il dato più importante da cui bisogna cercare di ripartire, chiudere le maglie difensive, ritrovare una compattezza di squadra perché se si prendono 7 gol in 6 partite non è colpa solo della difesa ma di una serie di meccanismi che non funzionano quindi cercando di compattarsi sempre meglio perché per vincere lo Scudetto lo sappiamo, in Italia soprattutto di solito vince chi prende meno gol come è successo anche l'anno scorso con una difesa che era un muro imperforabile che ha visto Sommer e anche in quelle poche apparizioni a Udero comunque fare incetta di clean sheet che quest'anno sono una rarità e si sono visti solo nelle due partite di campionato contro Lecce e Atalanta e non è assolutamente sufficiente prima di passare a parlare della prossima sfida ricordiamo di iscriversi al canale, di cercare di supportarlo continuando a trovare nuovi iscritti, parenti, amici, colleghi, vari gruppi, Whatsapp, Telegram come il nostro a cui vi dovete iscrivere tutti scaricando l'applicazione nello store e cercando in gruppo Marco Barzaghi inter per avere le prime pagine giornali, le formazioni, anticipazioni, le notifiche di quando siamo in live, appuntamento stasera alle 19 e consentitemi di ringraziare anche il sindaco di Corbetta che ha fatto come unica live l'apparizione, la presenza, l'ospitata sul nostro canale a darvi ancora di più raccontando questa stranissima situazione con il suo amore poi per l'Inter che ci ha consentito anche di fare delle chiacchiere nerazzurre però ha utilizzato anche il nostro canale per cercare di far pace chiedendo comunque scusa nonostante il suo fosse un gesto come abbiamo spiegato e molti di voi eravate d'accordo di ospitalità anche perché ormai si sapeva del trasferimento di Morata a Corbetta, comune dell'Interland milanese con una ventimila circa abitanti, tra l'altro Morata che come riportano i media ha preso in affitto quella che era la casa di Onana proprio a Corbetta e infatti anche il sindaco poi in altri interventi ha ricordato come con Onana non ci fossero mai stati problemi dunque mentre si sta cucinando il nostro tè caldo più famoso di Youtube ricordiamo anche la nostra petizione più che mai da Twaita anche perché la risposta piccata e poco gentile di Morata ha portato a una shitstorm nei confronti del nostro amico sindaco una serie di insulti, beceri come spesso siamo abituati a dover ricevere che pone più che mai l'accento sulla nostra battaglia contro gli haters, i leoni da tastiera quelli che poi non aspettano altro che succedano episodi di questo tipo per offendere, minacciare, insultare e dunque doppio clic al link in descrizione mi raccomando siamo a poco più di 3000 firme quindi vuol dire che tanti, tanti di voi non hanno neanche cliccato neanche hanno letto il nostro tentativo di combattere quest'odio sui social che merita attenzione, soprattutto un intervento da parte del governo per cercare anche di metterci un po' al passo con altri paesi europei che stanno lavorando per difendere soprattutto i più deboli e più giovani che spesso si trovano in mezzo a questo cyberbullismo che bisogna cercare di estirpare quindi doppio clic e firma della nostra petizione Vigilia per capire quali saranno le scelte di Inzaghi cercheremo di approfondirlo nel corso della giornata stasera in live ore 19 vi aspettiamo tutti mi raccomando come sempre per rispondere anche tutte le vostre domande Di Marco e Darmian cambiano le fasce con due giocatori freschi e riposati che Inzaghi è riuscito a non far neanche entrare nella partita contro la Stella Rossa Sombra naturalmente importa penso a un avvicendamento Pavar Bissek con Acerbi anche lui parzialmente riposato è entrato solo nel finale perché De Vrij era ammonito e Bastoni o Carlos Augusto c'è anche questo ballottaggio dal momento che Bastoni forse avrebbe bisogno di tirare un po' il fiato però l'abbiamo letto manca già Barella attenzione a rinunciare ai leader tecnici della squadra che non possono mai mancare contemporaneamente con Bastoni Barella e Cialanoglu è il terzetto che deve bene o male essere più o meno presente almeno due terzi della sua composizione se no la squadra va a perdere troppo dal punto di vista del gioco della costruzione anche degli automatismi a centrocampo sugli esterni fasce cambiate in mezzo Cialanoglu credo ancora Mkhitaryan e Frattesi anche lui parzialmente riposato nonostante comunque Zinischi abbia fatto bene e stia crescendo anche diciamo nelle gerarchie interne nella considerazione di Inzaghi ma dei compagni stessi e poi là davanti a differenza dell'anno scorso ma anche di queste prime giornate una Tula anche se sapete che non mi piace chiamarla così fresca e riposata con Turan che per la prima volta si è potuto diciamo accomodare in panchina senza affaticarsi cercando di ridargli un po' di brillantezza dopo l'ottimo avvio poi dopo la prima pausa dei nazionali si è un po' perso anche perché appunto questo hanno come risultato queste soste e ce ne aspetta un'altra settimana prossima che solo al pensiero diventa insopportabile e un Lautaro recuperato pienamente tre gol in due partite che adesso non si vuole più fermare che ieri sera al suo ristorante ha lanciato anche il suo vino di produzione e gli facciamo un bocca al lupo perché sta anche nuova attività e un Lautaro che adesso deve fare la differenza da leader capitano e tornare a fare tutti i gol che sono mancati che fanno un po' la differenza anche se è minima l'abbiamo detto rispetto anche ai punti conquistati l'anno scorso c'è una differenza solo di quattro punti e questo era il periodo in cui l'Inter ebbe la sua prima flessione sconfitta col Sassuolo pareggio col Bologna quindi si può anche migliorare ma soprattutto la difesa perché i gol subiti sono troppi la Juventus è ancora imbattuta il Napoli dopo la prima disastrosa partita di Verona ha subito solo un gol su rigore dal Parma e non è sufficiente questo perché abbiamo detto spesso vince chi prende meno gol Juventus e Napoli stanno facendo molto meglio dell'Inter che deve lavorare su questo fattore sulla difesa sulle su tutti quegli automatismi che sono venuti un po' a mancare bisogna ritrovare insieme a una condizione che migliora l'abbiamo visto anche se poi arriverà questa nuova pausa per le nazionali che sarà un ulteriore ostacolo porterà via tutti i giocatori più importanti anche se rispetto all'anno scorso sono di più quelli che rimangono alla Pinettina Pavara ancora non convocato da Deschamps e credo che questo faccia comunque incida nella sua morale nella sua stagione che non è a livello della scorsa e anche qui bisogna cercare di aiutarlo dargli una mano e poi bisogna soprattutto supportare perché mi sembra assurdo che Arnautovic che ha un problemino fisico e Aslani vengano fischiati in quella maniera da San Siro per poi cosa è una partita che stai vincendo anche grazie al loro contributo con Arnautovic che si è sbloccato che ha dimostrato anche sacrificandosi in difesa comunque il suo impegno che non è mai mancato qualche errore di troppo però anche tre gol nelle ultime quattro partite di Champions non penso che siano dati meritevoli di fischi un po' più di supporto adesso vorrei cominciare anche leggendo un po' la nostra rassegna stampa con un articolo che di tutto sport vi fa capire insomma l'ambiente anche perché abbiamo una certa posizione ma perché ogni cosa viene utilizzata per creare clamore mediatico e cercare di colpire l'Inter e dipingere una una situazione totalmente differente da quella che è nella realtà allora c'è un Inter da proteggere nel momento più difficile Nerazzurri in campionato sono riduce da 4 punti in 3 partite serve una scossa per mantenere alte le ambizioni penso che questa scossa sia già arrivata a Udine con una bella importante vittoria Inzaghi sta isolando i giocatori dalla tempesta che sta investendo il club anche qui non mi pare che sia una tempesta sul club il toro test per misurare la tenuta mentale capite anche la nostra posizione tra l'altro inizia con una chicca cioè con una topica assolutamente sbagliata il primo pensiero è Monza una serata storta dopo una grande prestazione in Champions a Manchester qualcosa che non torna? c'è qualcosa che non torna? cosa dite? neanche il calendario su via se volete creare dei casi dopo la serata di Champions e la grande prestazione è arrivata la sconfitta nel derby Monza era arrivata prima di Manchester anche perché il pensiero era principalmente a quella grande sfida un pensiero da cacciare via una suggestione che non si deve convertire in déjà vu ce ne sono tanti di pensieri da allontanare di discorsi da non ascoltare e di errori da non ripetere per l'Inter in questo momento i nerazzurri domani sera saranno attesi da un toro con la voglia di tornare ad essere quello che sempre San Siro ha messo sotto il Milan intanto intorno c'è un gran rumore tutto quello che arriva dall'extracampo e che però carica la squadra di ulteriore pressione oltre a quella che c'è già ci fosse una pozione magica che risolvesse la situazione e riportasse le acque tranquille il demone di Piacenza forse l'avrebbe già trovata certo che tocca proprio a lui Simone Inzaghi trasformarsi dal condottiero demone in un timoniere che è qualcosa un po' a metà tra un Ulisse e un Sinner la sua Inter ha come obiettivo quello di confermarsi in campionato inutile girarci intorno una stagione come quella dello scorso anno in Serie A è praticamente impossibile da replicare ma la squadra da battere resta ben amata che non vuole cadere negli errori commessi da Milano e Napoli nelle stagioni post scudetto tanto qua anche un uso abbastanza improprio della punteggiatura in campionato l'Inter non è stata impeccabile lo sa Inzaghi lo sa anche la squadra con la vittoria di Udine importante sotto l'aspetto del morale ma ancora lungi dall'essere la prova di una squadra dal meccanismo perfetto come i nerazzurri avevano abituato bisogna tornare a dare continuità alle vittorie a macinare punti pur senza perdere un colpo in Champions l'inchiesta sul mondo ultras milanese che ha coinvolto anche il club e Inzaghi in prima persona però rischia di distrarre un po' tutti vi è sembrata una squadra distratta martedì non mi pare proprio il caso curve è scoppiato ma è ancora in divenire e anche se presto si attenererà parte del clamore mediatico suscitato dall'esplosione periodicamente tornerà ad attualità durante tutta la stagione l'abilità del tecnico dovrà quindi essere quella di essere capace di isolarsi e di isolare la squadra da tutto per concentrarsi solo sugli obiettivi sportivi un po' come è successo alla Juve nella stagione 17-18 quando anche i bianconeri furono investiti dal loro caso Ultras Allegri i giocatori riuscirono a isolarsi completamente da ciò che accadeva intorno a loro tanto da vincere lo scudetto riconfermandosi visto che erano già campioni d'Italia la stessa condizione in cui sono i nerazzurri in questo momento insomma ma senza andare troppo in là nel tempo all'Inter basterebbe ispirarsi al milanista Sinner anche i anni che è riuscito a vincere uno US Open mentre si defendeva dall'antidoping l'esempio migliore di capacità di trovare le energie mentali per pensare solo al campo e continuare a vincere in questo momento potrebbe essere proprio lui a Inzaghi toccherà fare un po' Ulisse come con i compagni di viaggio nel libro 12 dell'Olissea insomma ficcare nelle orecchie dei giocatori un bel tappo di cera che impedisca loro di cadere in tentazione turare i timpani dei giocatori dal rumore di tutto quello che arriverà da fuori evitare che il canto delle sirene mediatiche giudiziari gli influenzi tanto da smettere di remare addirittura quando ricordiamo che come ha detto Marotta ma anche il PM dell'indagine l'Inter è assolutamente parte l'esa di tutta questa brutta storia il rischio sarebbe quello di far spiaggiare la corazzata Inter in un momento come questo fondamentale in cui è fondamentale tenere tutti la testa bassa e andare nella stessa direzione quindi capite un po' il clima come tutto venga abbastanza utilizzato ad arte per come ha detto anche Bastoni l'altra sera destabilizzare e creare problematiche che speriamo invece di risolvere con anche il corso che avrà questa indagine la giustizia e le autorità preposte a sistemare tutta la situazione come dovrebbe in teoria già essere quindi testa solo e soltanto sul Torino squadra temibile come abbiamo letto nell'articolo tra tante inesattezze comunque ha messo sotto il Milan a San Siro che nonostante le eccessioni di Buongiorno e Bellanova ha trovato dei grandi colpi di mercato in Cocco difensore centrale gole ad or molto forte di testa in c'è Adams giocatore svincolato molto interessante rapido e veloce come quelli che io sottolineo sempre si dovrebbe cercare di portare in nero azzurro il solito Zapata anche lui sui palloni alti un fattore quindi visto che l'Inter ha sofferto soprattutto in questo diciamo fondamentale bisognerà fare molta attenzione ai traversoni alle fasce dove c'è un lazzaro che in tempi non sospetti avevo consigliato di tenere che si sta veramente ritrovando riesplodendo con una prestazione migliore dell'altro tra l'altro con una duttività che gli permette di giocare senza problemi a destra o a sinistra c'è quel Bornasosa che era un potenziale a fare che in passato l'Inter aveva seguito e pensato a lui come rinforzo anche per gli esterni dovrebbe recuperare Milinkovic un portiere che si è ingiornata è un altro pericolo importante poi c'è quel Ricci che è osservato speciale da Guardiola insieme a Barella e probabilmente ci saranno anche degli emissari degli osservatori come riportato dal nostro sito barzacom.it che vi riproponiamo sempre da tenere tra i preferiti e come compagno delle vostre giornate per una serie di approfondimenti di mercato calcio o anche calcio femminile campionati esteri tutto quello che può interessarvi maggiormente tra l'altro abbiamo riaperto i casting per aumentare e allargare il nostro staff se ci fosse qualcuno interessato a farne parte con passione per entrare in quello che è un laboratorio per imparare tutte le cose diciamo più importanti connesse alla scrittura ma non solo ai social media e ai siti sportivi contattatemi perché vogliamo veramente allargare la nostra produzione fare sempre di più anzi ci piacerebbe una barzacom da creare di notizie e magari qualche breve video se c'è qualcuno esperto che ci può aiutare ben venga lo aspettiamo quindi abbiamo detto di una probabile formazione in tanti mi chiedete anche di Buchanan che settimana prossima dovrebbe gradualmente tornare in gruppo e poi tornare a disposizione per la trasferta di Roma post sosta trittico terribile che ci attende Roma Young Boys in trasferta e poi Juventus avete visto la grande vittoria della Juve a cui non si può che fare i complimenti in inferiorità numerica propiziata da un consejsao giocatore rapido veloce che è entrato con la sua tecnica saltando l'uomo ha segnato il gol vittoria però vedete anche quanto sia dura e quanto porti via la Champions Bremer a cui facciamo l'osso in bocca al lupo stagione pressoché finita 6-7 mesi di stop per la rottura del legamento crociato al ginocchio con la Juve che sta adesso valutando il mercato degli svincolati se non comunque cercare un rinforzo a gennaio magari si rivedrà il mitico cabal che è sparito dalla cronaga nelle ultime gare non entrato mai dal grande colpo di mercato e poi anche un mese di stop per Nico Gonzales che vedremo se farà in tempo a recuperare per il derby d'Italia che ci attende poi dopo questa inutile sosta per le nazionali che ancora non ho compreso non ho capito il senso in una stagione così lunga e veramente piena di difficoltà che avrà l'appendice del mondiale per club tra l'altro è un approfondimento anche qui doveroso la FIFA ha intenzione e aspetta l'ok anche delle federazioni le varie federazioni interessate di allargare cioè di aprire una finestra di mercato dal primo al 10 giugno 2025 valida per tutte le federazioni nazionali che saranno rappresentate al mondiale per club che avrà luogo negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio è una delle novità più rilevanti del regolamento che il consiglio della FIFA ha approvato ieri all'unanimità partendo dal fatto che le date di mercato tra diverse confederazioni non coincidono la FIFA intende ridurre il più possibile differenti condizioni di partenza tra i club dunque le singole federazioni potranno aprire eccezionalmente una finestra extra di 10 giorni Inter e Juve potrebbero così anticipare un acquisto estivo e portare nuovi giocatori negli Stati Uniti ne usufruirebbero in linea teorica anche gli altri club di A ma per loro non ci sarebbe tuttavia nessun vantaggio pratico bastano i classici preaccordi di giugno l'altra novità è che i club impegnati al mondiale possono modificare la lista dal 27 giugno al 3 luglio a patto che nel rispettivo paese ci sia una finestra standard di mercato aperta diciamo che il primo luglio nuovo acquisto di Inter e Juve potrebbe firmare e andare al mondiale è un modo per sopperire all'indisponibilità dei contratti in scadenza al 30 giugno anche se spiegano dalla FIFA l'obiettivo è incoraggiare club e calciatori a trovare una soluzione prima per facilitare il torneo quindi da verificare poi le condizioni dei giocatori in scadenza in casa nera azzurra e quindi devrai a Cerbi e Darmian che però hanno tutti e anche Mkhitaryan un'opzione di rinnovo automatico quindi non credo che rappresentino dei problemi anche se poi bisognerà valutare tutta questa stagione il loro rendimento il loro contributo e invece quelli che andranno poi a salutare come Arnautovic e Correa credo che questo sarà l'epilogo con la possibilità però poi di inserire nuovi acquisti magari anche dei giocatori a zero di quelli che continuiamo a riportare possibili pezzi pregiati del prossimo mercato da Jonathan David a Jonathan Tadu e Jonathan il difensore dell'Everkusen che segue il Bayern Monaco ma che potrebbe essere un gran colpo a zero e non solo il sogno Sané che però senza decreto crescita vi ho spiegato difficile cercare di andare a a firmarlo a fare un'offerta concorrenziale passiamo ai vostri messaggi quelli con più like arrivo li andiamo a recuperare grazie per il grande sostegno di tutti vi vorrei un po' più presenti e anche stasera in live mi raccomando cerchiamo di far ripartire il canale dopo tutto quello che c'è successo purtroppo non dipendente da noi ma proviamo e abbiamo cercato in tutti i modi di andare avanti anche grazie al vostro aiuto se ami il Barza e vuoi rivederlo subito in forma metti un like scrive interista ben 69 like e mi fate commuovere e firmate la petizione aggiunge Laura che apprezziamo molto Oriana dopo giorno giorno dopo giorno si vede le tue condizioni sono in miglioramento volevo fare una mia personale considerazione sulle notizie di questi club interessati a Barella ora c'è Inzaghi tra qualche giorno ci saranno altri giocatori al centro dell'attenzione siamo solo all'inizio del campionato della Champions perché mettere in giro queste notizie solo per destabilizzare tutto l'ambiente compreso i tifosi e il lavoro che sta facendo la squadra notiamo che l'Inter continua a migliorare beh perché comunque sono reali queste notizie cioè Guardiola non è un mistero già ci aveva pensato a Barella adesso senza Rodri non può non farci un pensiero così come a Manchester Sponda United vorrebbero farebbero carte sono pronti a fare carte false per Inzaghi perché continuano a inanellare brutte prestazioni e quindi è normale che anche tutti i giocatori più importanti dell'Inter facciano gola ma sicuramente avremo di nuovo voci su Cialanoglu su Lautaro su Turam su Bastoni ma su tutti no Bissec anche nella partita di Champions abbiamo avuto la dimostrazione di quanto sia solido e unito questo gruppo di ragazzi e soprattutto di quanto Lautaro sia veramente capitano perfetto sottolinea Francesco Giaconelli con quel bellissimo episodio appunto di Lautaro che lascia a Taremi il rigore che gli permette di segnare e di sbloccarsi avanti tutti insieme su questa strada trascinati dal nostro grande capitano Tarcisio è ovvio che cerchino allenatori e calciatori che stanno facendo bene specialmente in Europa ma non è detto che perché uno venga cercato poi ci vada ma questo è la palissiano altri abbonati che ringraziamo e che ci iscrivono Anthony già vigilia capiremo se siamo tornati veramente nonna novella ti stai riprendendo complimenti chi è punteggio pieno la Juve ha lottato fino alla fine bravi con grande sportività poi Mirko Fascetti sarebbe una grave perdita sia per il sia il demone che Barella tutto dipenderà anche dai risultati da come andrà questa stagione il Barza talismano dice Luca Clerici che poi ci manda anche un super sticker ha prodotto due vittorie firmate la petizione ottima notizia che Lautaro ha recuperato e sta bene ed è pronto per domani sera Settelemaco buongiorno anche a te andiamo a leggere messaggi con più like dopo quelli degli abbonati che hanno un minimo di corsia preferenziale ma cerchiamo sempre di rispondere a tutti come faremo stasera ti vedo sempre meglio Mike spero che recuperi prontamente al 110% riguardo Barella Inzaghi la curva il tuo lavoro è fondamentale per combattere la disinformazione dilagante poi hai dimenticato di mettere dietro il vecchio trap è fondamentale rimetterlo ma c'è c'è dietro a Interstellar che però non possiamo togliere perché sennò poi qualcuno si dimentica che abbiamo vinto la stella del ventesimo scudetto in faccia al Milan il vecchio trappeli e non ci abbandona mai Adanico trovo insopportabile quest'assio nei confronti di Arnautovic che è uno dei pochi giocatori fantasiosi che abbiamo lo sconosciuto bisogna essere sportivi bella impresa della Juve mi ha ricordato Colonia Inter dell'85 quando in 10 dal nono per l'espulsione di Ferri vincemo tra 1 con gol di Marini e doppietta di Rummenigge per la qualificazione senza passare agli spareggi bisognerà fare più punti eretti possibili a cominciare dalla trasferta in casa dello Young Boys Claudix troppe partite inutili specialmente in questo periodo purtroppo non si può far nulla soltanto sperare che non si faccia male nessuno di non aver brutti regali in dote da questa nuova pausa salutiamo Giussi che si fida del demone e non pensa minimamente che lascerà l'Inter se il mister lascia anche Alex dice la nostra l'Inter sarebbe un peccato è difficile trovare un sostituto alla sua altezza Klopp è ancora libero ma si è ritirato è bello vederti come prima non proprio nella stessa condizione ti trovo in forma Giorgio Colombo sei il nostro Barzatalismano che bello sentirti la mattina sei il più di tutti Francesco Nigro grazie Massimo Cattaneo spesso seguo le partite togliendo la telecronica ascoltando l'audio originale per apprezzare molto di più il tifo di San Siro Predix il capitano si farà un'altra bella trasferta in Argentina come hai detto tu questa sosta nazionale non permette di fare un periodo di lavoro continuativo Maria come sempre il nostro Te Caldo grazie per non lasciarci mai soli oggi più che mai ci vuole tranquillità per tutti poi vediamo un po' a Wachup nessuno tralascia nulla però non si amplifica anche poi cose che vengono utilizzate per attaccare l'Inter e creare come al solito costruire Castelli in aria andrò controcorrente a malincuore nel calcio odierno le motivazioni si perdono molto velocemente giusto cambiare ogni tot di anni per ritrovare le ambizioni e motivazioni scrive Joy in Napoli fa un campionato a parte Fabio G mentre saluto Mario Bosco sono quasi sicuro che l'uscita delle coppe europee dell'anno scorso sia stata voluta per poter programmare meglio la stagione di quest'anno Fiorenzo dice una situazione fuori controllo si gioca troppo a rimetterci sono i club allora andiamo a rifare un po' di rassegna stampa in copertina del Corriere dello Sport Fagioli fa gioco però la Juve perde Bremer Fagioli piccolo Modric non so dove non mi pare di aver visto queste queste partite così mirabili per quanto riguarda l'Inter cerca la difesa in Champions il focus del Corriere dello Sport alla vigilia del Torino in zaghi i suoi hanno incassato sette gol in sei gare in Europa invece due clean sheet una tendenza che va invertita al più presto in Serie A come dicevamo anche in apertura del nostro video chiudiamo con la gazzetta dello Sport signor gol c'è Vlaovic in copertina Fonseca secondo Gullit a un Milan da scudetto Lukaku rinuncia alla nazionale per rimanere a Napoli ad allenarsi e poi per l'Inter Lautaro e Turam per inseguire e per il record all'interno andiamo a parlare di Bremer e poi Turam e Lautaro al top per l'Inter ora l'obiettivo è superarsi adesso la vera Tula fin qui alti e bassi ma in gol insieme dai ritocchi di Inzaghi alla forma in crescita entrambi cercano il record di reti stagionali c'è il Torino Inzaghi alza l'attenzione da Di Marco a Frattesi ecco le forze fresche pronti sei cambi rispetto alla Stella Rossa in bilico anche Pavar Arnautovic da verificare e poi ne parleremo stasera con tutte le ultime notizie ore 19 in live buona giornata da Grazie a tutti.